I bambini della Corrado Melone non potranno contare, almeno per quest'anno, sulle aule del plesso Livatino. Purtroppo, ha spiegato il dirigente scolastico Riccardo Agresti, la dirigenza del circolo didattico La Dispoli 1, ha negato al sindaco Alessandro Grando la concessione delle aule alla Corrado Melone. E così ora l'istituto dovrà rinunciare ai suoi laboratori per assicurare una classe ai bambini. Non solo, spariranno anche la biblioteca, le due sale docenti, l'aula ceramica, quella per i diversamente abili, la sala cinema e l'archivio. Certo, ha giunto Agresti, la Melone non avrà quegli spazi laboratoriali che La Dispoli 1 realizzerà, ma i docenti sapranno svolgere comunque una didattica d'eccellenza. Quindi, dopo la prevista giornata di Open School del 14 settembre, fin dal primo giorno di lezione, che quest'anno sarà lunedì 17, si inizierà con i servizi di rifezione scolastica e trasporto scuola bus assicurati sin da subito, ha concluso Agresti.